E grazie di essere con noi a Massimo Giannini, editoria rissa della Repubblica. Allora, che impressione innanzitutto ti hanno fatto questi ragazzi? Politici proprio non esistono fra i modelli significativi. Un'impressione positiva, perché appunto sono tutti ragazzi animati da, possiamo dirlo, buoni sentimenti. Però c'è l'altra faccia della medaglia, che invece è negativa, perché, come dici tu, come si vede dal servizio, non ci sono modelli tra i politici. E questo dimostra quanto questa nuova generazione, la cosiddetta generazione zero, si senta dimenticata dalla politica. E quindi ne fa a meno, fa da sola. Non la considera proprio perché non si sente considerata. Facciamo un passo indietro. Tu a 18 anni, quando avevi l'età di questi ragazzi, invece com'eri? Tra l'altro, scusami, abbiamo anche documentazione fotografica. Mamma mia, mamma mia. Bei tempi, mi verrebbe da dire. Con una zazzerola di capelli bronzi. Anzi, guarda, ti posso dire che qui me l'ero già un po' tagliata, perché in realtà li portavo molto più lunghi. Ah, ecco. Beh, appunto, rispetto a quello che abbiamo appena visto, esattamente l'opposto. Nel senso che c'erano ancora delle grandissime figure di riferimento. La mia in particolare era Berlinguer. Certo. Perché io ho votato PC la prima volta e non solo la prima volta, finché è stato possibile. Però, insomma, c'era tanta voglia di esserci, di partecipare, per costruire una società diversa. Basti pensare, per esempio, alle immagini delle folle oceaniche dei funerali di Berlinguer. Beh, quello fu un momento... Io lo considero fondativo della Repubblica, per alcuni versi. Cioè, ci ha lasciato un'immagine almirante davanti al feretro, ecco, di qualche cosa che rimane al di là delle diversità di opinione politica. Alcuni valori nei quali tutti ci possiamo identificare, tutti ci dovremmo riconoscere. Il giorno del voto, te lo ricordi, eri emozionato? Beh, ero emozionato perché, appunto, era la mia prima scheda depositata nell'urna. Poi, a questo aggiungi anche che dal punto di vista personale ed esistenziale, c'era un entusiasmo che si aggiungeva e che andava al di là della politica, che era lo sport. Perché quello è stato l'anno nel quale il mio primo voto alle elezioni politiche, secondo scudetto della Roma. Poche settimane prima del voto, la Roma vinse il suo secondo scudetto, partita a Genova, peraltro. Quindi è unito l'utile al di là. Eh sì, insomma, le due cose si sovrapposero, quindi fu un anno particolarmente intenso. Per cui sì, la politica era quasi il nostro pane quotidiano, insomma. Intanto, grazie a...